Sant'Alfonso Maria degli Guori, Apparecchio alla morte, ovvero Considerazioni sulle Verità Eterne. Edizioni Gribaudi, lettura di Cristina Capella. Terzo video, pagina 19, prima riflessione, ritratto di un uomo morto da poco. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. Genesi 3, 19 Punto primo Il cadavere sul letto di morte Rifletti che sei terra ed in terra dovrai ritornare. Verrà un giorno in cui giungerai a morte e ti troverai a marcire in una fossa dove sarai coperto dai vermi. Tu accoltre sono i vermi, Isaia 11. La medesima sorte toccherà a tutti, nobili e popolani, principi e sudditi. L'anima, non appena sarà uscita dal corpo, con quell'ultimo rantolo, entrerà nella vita eterna e il corpo sarà ridotto in polvere. Toglio loro il respiro e ritornano nella loro polvere. Salmo 103, 29 Se vengono private dello spirito, tutte le creature muoiono e ritornano nella polvere da cui sono state tratte. Immagina di vedere una persona che si è aspirata da poco. Osserva il cadavere che giace sul letto, il capo è reclinato sul petto, i capelli sono scarmigliati ed ancora bagnati del sudor della morte, gli occhi incavati, le guance smonte, il viso color grigio cenere, la lingua e le labbra color del ferro, il corpo ormai freddo e pesante. Chi lo vede impallidisce e comincia a tremare di fronte alla morte di un parente o di un amico, quanti hanno cambiato vita e hanno abbandonato le lusinghe del mondo. Maggior ribrezzo suscita poi il cadavere quando inizia a marcire. Non sono passate ancora ventiquattro ore dal momento del decesso di una persona, anche giovane, che si incomincia a sentire la puzza. È necessario aprire le finestre e bruciare una grande quantità di incenso, anzi, bisogna provvedere a portare la salma subito in chiesa e a seppellirla in fretta per evitare che tutta la casa ne venga infettata. E il fatto che quel corpo sia appartenuto ad un nobile o ad un ricco servirà soltanto a fargli emanare un fetore più insopportabile. I cadaveri dei ricchi mandano una puzza più nauseabonda, dice un autore. Ambrogio, Exameron, libro VI, capitolo VIII. La puzza emanata dai cadaveri dei ricchi è più nauseabonda perché gli eccessi cui si sono abbandonati hanno raggiunto il colmo di stenta luxuria. Ecco la fine cui è andato incontro quel superbo, quel disonesto. Prima era accolto desiderato nei circoli, ora è divenuto oggetto di orrore e di ribrezzo per chi lo vede, a un punto tale che i parenti si affrettano a farlo trasportare fuori casa e a pagare i becchini che lo chiudano nella cassa e gli diano sepoltura. Durante la vita aveva raggiunto un'ampia fama per l'ingegno, la signorilità, le belle maniere, lo spirito arguto, ma poco dopo la morte tutto viene presto dimenticato. Svanì con il suono il loro ricordo. Salmo 9,7 Nell'edizione ufficiale dai testi originali è scomparso il ritorno delle città che hai distrutto. Dio ha nientato gli empi e il loro ricordo è cancellato per sempre, come il suono che svanisce nell'aria. Alla notizia della sua morte qualcuno commenta Era all'altezza della sua fama, altri dicono Ha lasciato un'ottima sistemazione alla famiglia. Qualcun altro poi se ne rammarica perché il defunto era fonte di un certo profitto, ma altri se ne rallegrano perché la sua morte coincide per loro con un guadagno. Del resto, in breve tempo di lui non parlerà più nessuno e fin dai primi giorni dopo il decesso i parenti più stretti non ne vogliono più sentir parlare affinché non venga rinnovato il loro dolore. Durante la visita di condoglianze si fa attenzione a parlare d'altro e se capita che qualcuno accenni al defunto i parenti esclamano per carità non nominatelo più. Pensate che nello stesso modo in cui vi siete comportati voi in occasione della morte di qualche amico o parente, così si comporteranno gli altri al momento della vostra morte. Entrano in scena i vivi ad impadronirsi dei beni e ad occupare i posti dei morti, e i morti non vengono tenuti in considerazione che poco o nulla, fino a non essere più ricordati. All'inizio i parenti saranno tristi per qualche giorno, ma poco dopo si consoleranno con quella porzione di eredità che sarà loro toccata in sorte. Così in breve tempo si rallegreranno della vostra morte. E in quella stessa stanza nella quale voi avete esalato l'ultimo respiro e sarete stati giudicati da Gesù Cristo, si ballerà, si mangerà, si giocherà e si riderà come prima. E l'anima vostra allora dove sarà? Sentimenti e preghiere Gesù, mio Redentore, vi ringrazio di non avermi fatto morire quando mi trovavo in disgrazia vostra. Da quanti anni mi meriterei di stare all'inferno? Se io fossi morto quel giorno o quella notte, che sarebbe avvenuto di me per tutta l'eternità? Signore ve ne ringrazio. Io accetto la mia morte in soddisfazione dei miei peccati e l'accetto nel modo in cui voi vorrete mandarmela. Ma siccome mi avete aspettato fino ad ora, aspettatemi ancora un altro poco. Lascia che io pianga un pochino al mio dolore. Giobbe 10.20 Traduzione della Vulgata Nell'edizione ufficiale dai testi originali, lasciami sì che io possa respirare un poco. Datemi tempo per piangere le offese che vi ho fatto, prima di sottopormi al giudizio. Io non voglio più resistere al vostro richiamo. Chissà, forse le parole che ho appena letto sono l'ultimo appello per me. Confesso di non meritare pietà. Voi mi avete perdonato tante volte e io in grato sono tornato ad offendervi. Un cuore affranto e umiliato, tuo Dio non disprezzi. Salmo 50 Signore, poiché non sapete disprezzare un cuore che si umilia e si pente, ecco il traditore che pentito ricorre a voi. Non respingermi dalla tua presenza. Salmo 50.13 Per pietà, non mi cacciate via. Voi avete detto, colui che viene a me non lo respingerò. Giovanni 6.37 E' vero che io vi ho oltraggiato più degli altri, perché più degli altri sono stato da voi favorito con illuminazioni e grazie. Ma il sangue che avete sparso per me mi dà coraggio e mi offre perdono se mi pento. Sì, mio sommo bene. Io mi pento con tutta l'anima per avervi disprezzato. Perdonatemi e datemi la grazia di amarvi per l'avvenire. E' fin troppo quanto vi ho offeso. La vita che mi resta, Gesù mio, non voglio più spenderla ad offendervi. Voglio spenderla solo a piangere, sempre, le amarezze che vi ho dato e ad amarvi con tutto il cuore. O Dio, degno di infinito amore. O Maria, speranza mia, pregate Gesù per me. Punto secondo Il corpo nella tomba Ma perché tu possa capire meglio quel che sei, fratello mio in Cristo? San Giovanni Crisostomo usa queste parole. Avvicinati al sepolcro, osserva le spoglie, le ceneri, i vermi e sospira. Parenesis Ad Theodorum Lapsum Se si osserva una tomba, cogliendo nello squallore, non si può fare a meno di sospirare amaramente sulla fragilità della natura umana. Osserva come il cadavere diventa prima giallo, poi nero. Successivamente compare su tutto il corpo una lanugine bianca e schifosa, la quale dà origine ad un marciume viscoso e puzzolente, che cola per terra. Da questo marciume nasce una grande quantità di vermi, che si nutrono delle carni. Arrivano poi i topi, a far pasto di quel corpo. Alcuni lo attaccano dall'esterno, altri penetrano nella bocca e nelle viscere. Cadono a pezzi le guance, le labbra, i capelli. Le costole sono le prime a perdere la carne, poi è la volta delle braccia e delle gambe. I vermi, dopo aver consumato tutte le carni, si devorano a vicenda, e alla fine di quel corpo non resta se non un fetido scheletro, che con l'andare del tempo va a pezzi. Le ossa si separano l'una dall'altra, e il capo si stacca dal busto. Divenero come la pula sulle aie d'estate, e il vento li portò via. Deuteronomio 2,35 Il profeta sta interpretando il celebre sogno del re Nabucodonosor, e qui si riferisce ai piedi della statua, che si sono sbriciolati come pula. Ecco che cos'è l'uomo. È un poco di polvere, che in un'aia viene disperso dal vento. E quel gentiluomo, conosciuto come persona divertente e anima della compagnia, ora dov'è? Se entrate nella sua stanza, non c'è più. Se cercate il suo letto, è stato occupato da un altro. Le sue vesti e le sue armi, altri, se le sono già prese e divise. Se volete vederlo, affacciatevi a quella fossa, dove si è trasformato in sozzura e in ossa prive di carne. O Dio, quel corpo nutrito di tante delizie, vestito con molta raffinatezza, servito da numerosi domestici, a questo si è ridotto. Voi l'avete capito, o santi. Voi avete saputo mortificare i vostri corpi per amore di quel Dio che solo amaste su questa terra. Ora le vostre ossa sono conservate e onorate, come sacre reliquie, in scregni d'oro. E le vostre belle anime godono Dio, aspettando il giorno finale in cui anche i corpi risorgeranno per essere associati ad esse nella gloria, così come lo furono nella croce durante la vita terrena. Questo è il vero amore del corpo, sottoporlo nel mondo a dure privazioni, perché sia felice in eterno, e negargli quei piaceri che potrebbero renderlo in eterno infelice. Sentimenti e preghiere, ecco dunque, mio Dio, a che cosa dovrà ridursi anche il mio corpo, con cui tanto io ho offeso? Vermi e marciume, ma non mi affliggo, Signore, anzi mi compiaccio, che debba così putrefarsi e consumarsi questa mia carne, che mi ha fatto perdere voi, sommo bene. Quello che mi affligge è che per godere di quei miseri piaceri ho dato a voi tanti dispiaceri, ma non voglio diffidare della vostra misericordia. Voi mi avete aspettato per perdonarmi, il Signore aspetta per farvi grazie. Isaia 30, 18 E volete perdonarmi se io mi pento? Sì, io mi pento, con tutto il cuore, di aver disprezzato voi, o bontà infinita. Vi dirò con Santa Caterina da Genova, Gesù mio, non più peccati, non più peccati. No, non voglio più abusare della vostra pazienza e non voglio aspettare ad abbracciarvi, amor mio messo in croce, quando in punto di morte il confessore mi porrà nelle mani il crocifisso. Da ora vi abbraccio, da ora vi raccomando l'anima mia, mi affido alle Tue mani, oh Signore. L'anima mia è vissuta per tanti anni in questo mondo e non vi ha amato. Datemi luce e forza affinché io possa amarvi nella parte di vita che mi resta. Non voglio aspettare ad amarvi nell'ora della morte, ma ora vi amo, vi abbraccio, vi stringo e prometto di non lasciarvi mai più. Oh Vergine Santissima, tenetemi unito a Gesù Cristo e concedetemi la grazia che io più non lo perda. Parte terza. È faticoso salvarsi l'anima. Fratello mio, in questa descrizione della morte, vedi te stesso, è quello che un giorno dovrai diventare. Ricordati che tu sei polvere e in polvere ritornerai, dalla liturgia delle Sacre Ceneri che si basa sul versetto biblico di Genesi 13 a 9. Pensa che tra pochi anni, forse tra pochi mesi o giorni, ti trasformerai in marciume e vermi. Con questo pensiero, Giobbe si fece santo. Al sepolcro io grido, padre mio, tu sei, e ai vermi, madre mia, sorelle mie. Giobbe 17, 14 Con una drammatica esclamazione, Giobbe si rivolge al marciume della fossa e ai vermi della putrefazione. Tutto deve finire. E se l'anima tua si perderà in punto di morte, tutto sarà perduto per te. Scrive San Lorenzo Giustiniani Considera te stesso come fossi già morto, perché sai che fatalmente dovrai morire. Deligno vite. Se tu fossi già morto, che cosa non desidereresti aver fatto per Dio? Ora che sei vivo, pensa che un giorno sarai annoverato tra i morti. San Bonaventura dice che il timoniere si pone alla poppa della nave per poterla tenere sulla rotta giusta. Allo stesso modo, per condurre una vita irreprensibile, l'uomo deve immaginare sempre di essere sul punto di morte. Il paragone è tratto da un'opera che appartiene però ad un altro autore, noto come Pseudo Bonaventura. Da questa prospettiva ti esorta San Bernardo. Guardi i peccati della giovinezza e arrossisci. Guardi i peccati dell'età matura e piangi. Guarda le ultime presenti trasgressioni della tua vita e trema. Citazione a senso di un sermone di San Bernardo. E affrettati a rimediare. San Camillo dell'Ellis, quando si affacciava alle tombe dei morti, mormorava tra sé, se questi tornassero a vivere, che cosa non farebbero per la vita eterna? E io che ho tempo, che cosa faccio per l'anima mia? Ma questo santo parlava così per umiltà. Tu però, fratello mio, puoi temere forse a ragione di essere come quel fico senza frutti. Di cui disse il Signore, Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Luca 13,7 Tu che sei al mondo da ben più di tre anni, quali frutti hai dato? Vedi, dice San Bernardo, che il Signore non solo cerca fiori, ma vuole anche frutti. Cioè non si accontenta solo di buoni desideri e propositi, ma chiede anche opere sante. Sappi dunque utilizzare questo tempo, che Dio ti concede per sua misericordia. Non aspettare a desiderare il tempo di fare il bene, quando non ci sarà più tempo, e ti verrà detto, non vi sarà più indugio, parti. Dalla liturgia dei defunti, basata sulla citazione biblica, Apocalisse 10,6 Presto, ora è tempo di partire da questo mondo. Presto, quel che è fatto, è fatto. Sentimenti e priere Eccomi, mio Dio, io sono quell'albero che da tanti anni meritava di sentirsi dire taglialo, perché deve sfruttare il terreno. Sì, perché in tanti anni che sono al mondo non vi ho dato altri frutti, se non triboli e spine dei peccati. Ma, signore, voi non volete che io mi disperi. Voi avete detto a tutti che chi vi cerca, vi trova. Cercate e troverete. Io vi cerco, mio Dio, e voglio la vostra grazia. Mi dolgo con tutto il cuore per ogni offesa che vi ho arrecato. Vorrei morire di dolore. Nel passato mi sono allontanato da voi, ma ora preferisco la vostra amicizia piuttosto che possedere tutti i regni della terra. Non voglio più resistere ai vostri richiami. Mi volete tutto per voi e tutto a voi mi dono, senza riserve. Voi, sulla croce, vi siete dato tutto a me e io mi do tutto a voi. Voi avete detto, se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Giovanni 14,14 Gesù mio, fidandomi di questa grande promessa, in nome vostro e per i vostri meriti, io vi chiedo la grazia e l'amore. Fate che nell'anima mia, dove è abbondato il peccato, possano invece abbondare la grazia e il vostro santo amore. Vi ringrazio di avermi concesso la disposizione d'animo per elevare questa preghiera, mentre voi me la ispirate. E' segno che volete esaudirmi. Esauditemi, Gesù mio, datemi un grande amore verso di voi. Datemi un grande desiderio di compiacervi e poi la forza di attuarlo. O mia grande avvocata Maria, esauditemi ancora voi. Pregate Gesù per me. Pagina 29 Pagina 29 Pagina 29